ciao ragazzi vi farò vedere in questo video un'ulteriore dimostrazione del famoso teorema di pitagora questa dimostrazione è stata elaborata da henry perigal che è stato un famoso collezionista numismatico un numismatico è un appassionato di monete un collezionista di monete nato a londra intorno a circa l'ottocento allora sono stati sono stati costruiti i tre quadrati sui tre lati del triangolo rettangolo quindi quadrato costruito su ipotenusa quadrato costruito su un cateto quadrato costruito su un altro cateto allora lui ha individuato il centro di questo quadrato e ha disegnato la parallela all'ipotenusa passante per il centro del quadrato eccola qui successivamente ha tracciato la perpendicolare a questa retta e quindi il quadrato è stato scomposto in 1 2 3 4 quadrilateri 4 tastelli diciamo se io muovo il cursore vediamo un po cosa succede allora metto questo tastello quest'altro quest'altro e quest'altro ok e infine inserisco questo quadrato sovrappongo questo quindi l'area di questo quadrato è come voleva si dimostrare la somma delle aree di questi due quadrati costruiti sui cateti grazie grazie grazie